Tutto quello di cui ci accusano è pura invenzione. In aula, Dino Pippo Internò, cugino di Isabella Internò, ha reso la sua testimonianza durante il processo per la morte di Denis Bergamini, l'ex fidanzato di Isabella. Denis era un calciatore ferrarese che giocava per il Cosenza ed è stato trovato morto sulla statale 106 Onica, in prossimità di Roseto Capospulico, la sera del 18 novembre 1989. La testimonianza di Dino Pippo era molto attesa, poiché lo scorso luglio è emerso che anche lui era stato indagato insieme a sua cugina per l'omicidio volontario del calciatore. Tuttavia, mentre Isabella Internò è stata rinviata a giudizio ed è attualmente processata come unica imputata, la posizione di Dino Pippo è stata archiviata il 18 agosto, come dichiarato dal pubblico ministero all'inizio dell'udienza. Tuttavia, alla luce delle nuove informazioni che emergono, questa decisione potrebbe essere contestata. In ogni caso, Dino Pippo Internò è stato convocato in aula per testimoniare, descrivendo il suo rapporto con Isabella e soprattutto fornendo dettagli su dove si trovava e cosa stava facendo nei tragici momenti in cui Dennis perse la vita. Riguardo al suo rapporto con la cugina, ha raccontato Siamo cresciuti insieme, stavamo sempre insieme, ma ora non la vedo dal funerale di mio padre, nel periodo di Pasqua di quest'anno. Però ci messaggiamo spesso tramite Whatsapp Questa mattina mi ha mandato dei baci e io le ho risposto con un cuore. Sulla sera della tragedia, l'uomo ha ricordato Eravamo a casa dei miei genitori. C'ero io, mio fratello Roberto, mia madre, mio padre, mia sorella Loredana con il marito Luigi D'Ambrosio, zio Franco, il padre di Isabella, zia Concetta, un altro mio zio che viveva lì vicino e mia sorella Giuliana, mentre suo marito Francesco Arcuri è arrivato dopo. Giocavamo a carte fuori mentre le donne cucinavano dentro. Poi è arrivata la telefonata di Katia, la sorella di Isabella. Ci avvisava che c'era stato un incidente. Era ancora giorno, c'era luce. Zio Franco, zia Concetta, Roberto e Luigi D'Ambrosio sono andati lì con la macchina di Roberto. Io mi sono fatto la doccia e poi, con Francesco Arcuri e mia sorella, siamo andati a casa di Isa. Successivamente la presidente della corte ha domandato a Dino Pippo Internò dove si trovasse al momento in cui suo fratello, il cugino, gli zii e Isabella fecero ritorno a casa. Dino Pippo ha affermato di non ricordare questa specifica circostanza. L'avvocato di Bergamini, Fabio Anselmo, ha sottolineato l'importanza di questa testimonianza, poiché ha confermato quanto era già stato dichiarato da un testimone chiave. Tale testimone è Tiziana Rota, la moglie di un altro calciatore del Cosenza, Maurizio Lucchetti. Circa una settimana prima del decesso di Bergamini, Tiziana Rota aveva riferito di aver incontrato Isabella in una pasticceria a Rende, nella provincia di Cosenza. Vicino a Isabella c'erano i cugini Dino Pippo e Roberto Internò. La testimone aveva affermato di aver riconosciuto solo Dino Pippo e aveva riportato una frase inquietante che le era stata confidata da Isabella. Se sanno che mi ha lasciato lo ammazzano. Il riferimento era a Denis e alla fine della loro relazione. Dino Pippo ha confermato l'evento, ma ha cercato di ridimensionarlo. Mia cugina avrà detto così per modo di dire, sono cose che si dicono, ma portatemi la signora Rota perché voglio vedere se mi conosce, sono sicuro che non mi conosce. Dino Pippo aveva scelto di stare al fianco di Isabella durante i funerali del calciatore, tuttavia oggi ha espresso rimpianto per quella decisione. Se sapevo che succedeva tutto questo, io il funerale nemmeno da lontano lo vedevo. Non eravamo lì per proteggere Isabella. Ricordo che Padovano, Michele, compagno a distanza di Denis, vicino alla bara ha urlato tre volte vigliacco. Isabella, come accennato, è l'unica imputata per omicidio in concorso. Ma con chi avrebbe agito in concorso? Un aspetto è certo. Denis non si è suicidato, come sostenuto da Isabella negli ultimi 34 anni. È stata vittima di un omicidio. Questa conclusione è stata confermata da una perizia condotta nel 2017 sul suo corpo riesumato. Gli esperti hanno rilevato che Denis è stato soffocato, probabilmente con un sacchetto di plastica, e successivamente è stato posizionato morto o moribondo sull'asfalto in modo da essere investito da un camion. Tutto sembra essere stato orchestrato per simulare un suicidio e Isabella era presente. Tuttavia Isabella ha una versione completamente diversa dei fatti. Sostiene che dopo una discussione il giovane abbia volontariamente cercato di gettarsi sotto le ruote del camion, intenzionato a mettere fine alla sua vita, secondo la sua versione dei fatti. Fino ad ora Isabella non ha ancora parlato in aula, ma è probabile che lo faccia nelle prossime udienze. Rimane ancora incerto quale sarà l'esito finale di questa vicenda. La partita giuridica resta aperta.